la compagnia di oggi ci abbiamo a caso e ericottero il mio è più grande, il mio gambero è più grande è ancora l'ora del drink, secondo round ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video dal Giappone e oggi dove mi trovo? mi chiederete, guardate sono a Nagasaki e dall'altra parte di questo semaforo c'è una figura che forse qualcuno di voi ha già riconosciuto non lo so, andiamo a vedere nel dettaglio facciamo un piccolo zoom, facciamo un altro piccolo zoom e facciamo ancora un piccolo zoom ma chi è questa bella donzella? ma è erico che ci saluta e tra poco potremmo chiederle com'è la vita qua a Nagasaki perché sono andato proprio questa mattina a trovarla nella sua città natale guardate com'è piccolina erico, tanto lontana, adesso che viene verde viene qui a trovarci a caso e erico, siamo a Nagasaki ciao siamo a Nagasaki Nagasaki champon champon, andiamo a mangiare champon tipo ramen di Nagasaki, non è proprio ramen ma è il tipico piatto di Nagasaki come dice erico, è il tipico ramen di Nagasaki è il ramen autentico, molto più buono di quello che c'è in Hokkaido praticamente è tutto misto, c'è verdura, pesce, carne, tutto misto non è proprio il ramen di carne ma è misto misto, è tipo la peperonata la compagnia di oggi ci abbiamo a caso e ericottero ciao, benvenuti nella mia città a Nagasaki sì, per la prima volta oggi sono andata a Nagasaki nel Kyushu e stiamo per mangiare una delle privatezze più particolari proprio di questa prefettura che è il ramen detto ramen champon e questo lo sai cucinare erico? sì, ho mai cucinato ma è difficile? ma a casa, non so penso di sì ma fare la zuppa sembra un po' complicato vabbè, assaggiamo e bisogna mettere il kosho pepe il pepe chi vuole sapete che forse andiamo in Italia insieme forse forse tutto da vedere io ancora non l'ho mangiato adesso lo provo ma questo bisogna mettere tutto dentro com'è? mmm cioè c'è proprio tanta roba perché c'è tantissima verdura bene, ciao ragazzi oggi sono con erico e la famiglia di erico abbiamo Masa no Masa 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 e Naoko Naoko mi ricordo quindi andiamo con i genitori di erico in montagna nella città di Nagasaki dove ci sono stati crimini di... vabbè piacere vi saluto Masa Kiro e pensate che andremo a vedere una delle panorami più belli del mondo quasi del Giappone è veramente una delle yake si dice in giapponese vedete questa sarebbe la yake quindi il panorama notturno più bello del Giappone ecco qua grazie e adesso prendiamo la... cos'è che prendiamo erico? funiculare funiculare difficile cosa? cosa? Grazie a tutti. E adesso andiamo a Cina. Bellissimo. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Però si vede un po' il panorama anche da qui. Siamo a Nagasaki e stiamo per provare questo ristorante che si chiama Dejima. Pronti e via. Dove siamo? Hai sete? Hai sete. Vorrei fare sprizze ma non ce l'hanno. Quindi cosa prendi? Birra? Birra. Dovete sapere una piccola curiosità di Eriko. Sì. Eriko quando beve un bicchiere cambia colore. E' bellissimo. Quindi oggi... Oggi no. Oggi no? Perché sono in Giappone sono piccola. Ok. E' cresciuta perché ha fatto il bacino. Hai che impasto. Volevo chiederti che cos'è questo? Spiegaci che cos'è in Giapponese questo. Non so se è daikon. Daikon? Daikon tenazio. Daikon va. Daikon va daikon. Hai. Guardate che cos'è arrivato. Sazae? Sazae. Balena. Balena? Balena? C'è anche la balena che noi non mangiamo. Ma io non l'ho mai assaggiato. Prima volta? Mia monna sì. A lei piace tanto. Questa è la balena. C'è abbiamo ordinato praticamente questo moriawase che sarebbe un mix di tanti sashimi. Sashimi diversi e c'è arrivata anche la balena. Bene ragazzi. Kanpai. Cin cin. Cosa assaggi? Allora Eriko inizia dal tonno. Ha detto che fa schifo. Assaggia anch'io. Anche Masherin lo assaggia? Ah no. A caso lo. Buono? Se andate in un ristorante proprio giapponese dovreste leggere il menu anche tutto scritto a mano come calligrafia e dovrete leggere in verticale e c'è scritto persino il prezzo in kanji questo è 850 quindi 850, 830, 830, 830 eccetera eccetera. Wow. È arrivata anche la tempura. E abbiamo anche gli uramaki. Dovete sapere che gli uramaki è una cosa stranissima in Giappone. È la prima volta che li vedo. Vero Eriko? Sì ma poi non c'è il riso, guardate. C'è un uramaki di tipo menta e co. Quindi uova di pesce. Ah è vero. Ah strano. Secondo me non è buono, buonissime. Buono? Cioè, Vettini dai scrivono a noi. Guardate le facce di Eriko. secco, anche io ho pensato un po' secco, un po' tanto secco. E poi è arrivata anche la tempura ragazzi. Adesso Eriko ci assaggerà la tempura. Funghi. Guardate quanti funghi tutti tempura. Guardate ragazzi che ce lo metterà tutto in bocca. In un solo boccone. Vedete che fa schifo? Buonissimo. Ah scusa ho capito male. Vuoi assaggiare anche tu? Assaggia anche tu? Ok. Buon appetito. Buono? Il mio è più grande. Il mio gambero è più grande, penso. Buono? Sì, ragazzi, la polpetta giapponese. Questa è la polpetta del Giappone. La tsukune. Ti piace la polpetta? Sì, molto. Guardate che pezzone di polpetta. Questa è un'altra specialità di maiale. Scusa Dio. La grassa di maiale. Guardate, 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 guardate. Ok, assaggia Eriko. 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 Eriko, tu hai unicron? Tu hai unicron? 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 A caso lo provo? Adesso lo assaggio anche a caso. Unicron? 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 Buono? Buono? Unicron? Non c'è. Unicron? 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 C'è la stessa reazione per ogni cibo? Sono arrivati gli onigiri. Abbiamo quello al gusto di okkaka, quello al gusto di shakè e quello a numeboshi. Wow, guardate che spettacolo. E questo è il pane tipico di Nagasaki, vero? Ce lo dice Eriko. Lo vuoi assaggiare? Il pane fritto con? Lo vuoi assaggiare? Tipo gambe. Vuoi assaggiarlo? Con calma. Siamo strapieni. La verità è che siamo pienissimi. Siamo stra pieni. La verità è che siamo pienissimi. Siamo pienissimi. Eh, ma perché ci sono andate cose buone a Nagasaki perché nel Kyushu... E' la prima volta che lo mangia Eriko il pane tipico di Nagasaki, la sua città. E' come un italiano che mangia per la prima volta la carbonara. E' croccante. Demo, sai cosa mi sembrano? I toast cinesi. Nanca, toast di gambero? Sono rossa. Ditemi voi se vi sembra Eriko un po' rossa. E dite che spritz italiano è più forte di questo. Davvero? Non sono ancora rossa vuol dire che... No perché sono più forte in Giappone o perché questi alcooli sono deboli. Non lo so. Forse sei più abituata. Però... Però stai diventando rossa. E comunque hai bevuto solo una birra. Questo è il secondo drink. Secondo posto. Secondo posto. Andiamo in tanti? Beh, Eriko. Questo posto si chiama Suaramba. Suaramba. Suaramba in dialetto di Nagasaki. Significa che ti... Eh? Devo sedermi. Devi sedermi. Suaramba. Pensavo che devi sederti e suonare alla bamba. Dalla alla 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 bamba. Penso parole... Gioco di parole. Come si dice? Gioco di parole. Gioco di... Barre. Ah, capito. Quindi andremo a sederci. Avere shochu o sake japonese tipico di Nagasaki. Ok. Ok. Prego. Ciao Eriko. Nooo! Ok. E vedete. Spiega spiega cosa ha detto il signore sexy. Allora qui c'è ovviamente il posto dove si beve in Giappone costa di più rispetto al ristorante normale. Ma comunque qui costa duecento yen coperto. Che sono un euro e mezzo. Però in cambio potete scegliere uno di questi tipo rosso. E da male... Cos'è lo yakko? Lo sapevo. È il tofu. È il tofu. È il tofu freddo. Camoros. Camoros. Cos'è? È di... Camo è la... Anatra. Camoros. 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 A me piace tantissimo l'insalata con la patata. A me piace tanto la patata. A te? Sì sì. Piace. Buona. Kanpai. Ohi. Cin cin. Ohi. Yudepi. Yudepi. Ohi. Oddio. Mi ha detto che non è forte perché questo è liquore stretto. Ha detto che è forte? Ha detto che non è forte. È facile da bere. Però è forte. Due gemelle. Schiedi di sorelle con qualcosa in più. Terry e Maggie Magic Girls. Di operao si dice in italiano? Uriachiamoci. Una lotte da leoni. No, 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 no. È un film. Hangover non l'hai mai visto? No. Ma è bello. C'hanno anche Instagram. E si dice? Suaramba. Ah, quindi se siete da Nagasaki provatelo perché no. Ok, facciamo una story. Mi raccomando seguiteci su Instagram. Vi lasciamo eriko. 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 Eriko sei capito. È arrivata la cioccolata che è Ricêmia Scenari. Eriko è una grande cioccolatosa bambina golosa. Cosa c'è dentro? Il cioccolato coca con dentro la noce? Ah, bonbon? E' ancora l'ora del drink! Secondo round! E' ancora l'ora del drink! Secondo round! Io ho preso il Baileys, lei si è preso cosa? Umeshu E a caso ci ha preso qualcosa a caso Erico raccontami qualcosa di strano E' una bella storia! E' una bellissima storia! Ma perchè? A ver, non si può? Ma non correremo Ok, niente! E' una cosa divertente, un errore, vabbè Però fa molto ridere Ve la racconteremo quando sarete più grandi Ma c'è lui che ha ubriato, io no! Io non ho ancora Guardate i colori dei capelli e guardate i colori delle guance Nitenai? Nitenai? E ricordiamo cosa ha detto a inizio serata Io questa sera non cambio colore Oggi no! Oggi no! Sono in Giappone e sono piccose Erico! Vai! 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 Andiamo a bere con Erico! E andiamo? Andiamo in un posto strano C'è la faremo! Sì, io neanche se sono rossa da perfetto Ma è per questo che hai preso questo bicchiere Sì, sì! Nel senso che c'è un po' è tutto listo Sì, è vero! C'è il carne, c'è il pesce, le verdure Infatti, forse lo chef preparava per i suoi colleghi Mettendo un po' insieme quelli che avanzavano Quindi con gli abanzi Abanzi! Sì! E vabbè No, perché praticamente siamo andati adesso a bere l'ultimo drink della serata Forse 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 You never know E quindi abbiamo scoperto che lo chef Quando Erico gli ha detto che siamo andati a mangiare in questo ristorante famosissimo Che si chiama... Chikairo Chikairo Ci ha detto che lo offrivano ai dipendenti Quindi vedete Alla fine giornata abbiamo scoperto perché il shampoo è il shampoo Nagasaki shampoo Vabbè, grazie che ce l'hai fatto mangiare Erico Buonanotte! Buonanotte! Ciao Erico! Buongiorno! Dove siamo? Allora, siamo sempre a Nagasaki ma specificamente come dice Nello specifico? Nello specifico siamo a Dejimai Dejima Dejima letteralmente vuol dire Isola uscita Uscita Perché una volta questa piccola isola era uscita dalla città principale di Nagasaki E alla forma di ventaglio Ventaglio E lì abitavano tipo portoghesi stranieri Che facevano business in porto In porto Sì, in porto Sì 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 Perché ricordiamo che Nagasaki era tipo il principale porto dove si facevano tutti gli scambi Giusto? Sì E anche nel periodo Edo quando è stato chiuso il Giappone Un po' come adesso Col coronavirus L'unico posto aperto era qui Era proprio qui Vabbè E quindi questa è una riproduzione di quell'isola di tanti anni fa Portaci a vederla Andiamo Andiamo Però in realtà Cioè la posizione era qui Proprio qui Dove c'era Dejima Però mi sembra che non hanno rifatto tutto intero Forse è solo quasi metà Ok Perché adesso comunque intorno ci sono già gli edifici normali Sì Non è che possono riprendere tutto Tutta l'isola Però era così piccolina Io penso fosse più grande Cioè piccola Eh sì è abbastanza piccola Vabbè questo è proprio il palazzo Tendon In corso Però poi gli altri edifici sono molto più carini Guardate che bello Cioè Un po' per me strano è una cosa Sì Che Cioè di solito io abito in Italia Quindi vado a visitare varie città Le chiese Le chiese C'è sempre scritto Spiegazione O in inglese o in italiano Che io non capisco 100% quello che c'è scritto Ma qui c'è scritto anche in giapponese Che le posso leggere? No perché vabbè sarà un po' per via del corona Però io vedo solo giapponesi Oggi Oh guarda che c'è un amico E tra l'altro oggi è anche la giornata del Seijinshiki Seijinshiki Che sarebbe Il Festeggiano Chi ha 19-20 anni Per maggiorenne E soprattutto le ragazze si indossano il kimono Sì E gli uomini a volte solo completo Oppure anche i ragazzi kimono Sì vi faccio vedere una persona che indossa Sì Che sta facendo il servizio fotografico Eh sì 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 E di solito Anche tu l'hai fatto questa cerimonia qui a Nagasaki A Nagasaki sì 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 Ma quel giorno Oggi non fa freddo eh Io ho il berretto ma non fa così freddo Ma mi ricordo che quando l'ho fatto io C'è sempre si fa a gennaio A gennaio la festa Nevicava Nevicava E il kimono qua è tutto pesante e bel caldo Ma qui è tutto aperto no? Non aveva le mani infiattate Vediamo il freddo e caldo allo stesso tempo Sì Vogliamo entrare in qualche? Vogliamo entrare qui? Entriamo a vedere Bella da dietro Da questo taglio Anche sempre questa giacca sempre grandissima No perché dovete sapere che Erika è molto magra Però ieri abbiamo fatto una foto da dietro che sembrava molto più grossa La sono ingrassata Ma dove? Ma non è vero Vabbè ma sono tutti ingrassati sotto il covid È soprattutto tra Natale e Capodanno Hai mangiato tanto a Natale e Capodanno Andiamo a vedere anche qua fuori Cosa c'è qua? Il pontile? Però è proprio carino tradizionale così no? L'hanno ricostruito Che poi fa strano perché qua c'è la città tutta nuova E qua invece c'è tipo tutti questi edifici tradizionali Ma anche il legno da proprio questo senso di vecchio Ma in realtà quando è che l'hanno fatto questa riproduzione? Non so Ma io sono venuta per la prima volta Ah è la prima volta che vieni? Ma non è un posto tipo tipico di Nagasaki? E quindi gli abitanti di Nagasaki non vengono Ah quindi? E ne moco Non sono abitanti di Nagasaki queste persone? Tutti i turisti Tutti i turisti? Vabbè Andiamo a vedere Facciamo ancora il giro Vi portiamo a vedere tutta la città Però devo dire che Nagasaki mi sta proprio piacendo Perché tipo vai anche a mangiare A prendere da bere e si trova subito Esatto Questa è la mia città Perché a Tokyo tipo oggi è domenica È impossibile E comunque c'è poca Ma di solito c'è Ah tu non sei mai venuta quindi non lo sai Però di solito penso che ci sia molta più gente di questo o no? Adagasaki dice? Sì solitamente No solitamente sarà così Sarà così No sì? Perché tanti giovani vanno a lavorare nella città grande come Tokyo, Kyoto, non so Vuoi indossare il kimono? Vedete potete anche andare qui Ecco che è arrivata l'ora del pranzo Il mio amico giapponese si è preso il turco rice Quante calorie sono queste? Grandissimo! Io mi sono preso invece questa insalata con il salmone e Eriko si è presa il green curry Il curry verde Va bene Direi che dopo di questo potremo andare in aeroporto Ciao! 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 Grazie a tutti.